azi degli apostoli capitolo 3 guarigione di uno storpio pietro e giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio qui di solito veniva apportato un uomo storpio fin dalla nascita lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta bella per chiederle elemosina a coloro che entravano nel tempio costui vedendo pietro e giovanni che stavano per entrare nel tempio li pregava per avere un elemosina allora fissando lo sguardo su di lui pietro insieme a giovanni disse guarda verso di noi ed egli si volse a guardarli sperando di ricevere da loro qualche cosa pietro gli disse non possiedo né argento né oro ma quello che ho te lo do nel nome di gesù cristo il nazareno alzati e cammina lo prese per mano per la mano destra e lo sollevò di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando saltando e lodando dio tutto il popolo lo vide camminare e lodare dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto discorso di pietro nel tempio mentre egli tratteneva pietro e giovanni tutto il popolo fuori di sé per lo stupore accorsero verso di loro al portico detto di salomone vedendo ciò pietro disse al popolo uomini di israele perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo il dio di abramo il dio di isacco il dio di giacobbe il dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo gesù che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a pilato mentre egli aveva deciso di liberarlo voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino avete ucciso l'autore della vita ma dio l'ha resuscitato dai morti noi ne siamo testimoni e per la fede riposta in lui il nome di gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete la fede che viene da lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi ora fratelli io so che voi avete agito per ignoranza come pure i vostri capi ma dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti e cioè che il suo cristo doveva soffrire convertitevi dunque e cambiate vita perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del signore ed egli mandi colui che vi aveva destinato come cristo cioè gesù bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostruzione di tutte le cose delle quali dio ha parlato per bocca dei santi suoi profetti fin dall'antichità mosè infatti disse il signore vostro dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà e avverrà chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo e tutti i profeti a cominciare da samuele e da quanti parlarono in seguito annunciarono anch'essi questi giorni voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che dio stabilì con i vostri padri quando disse ad abramo nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra dio dopo aver risuscitato il suo servo l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità